È inconcepibile che chiuda una struttura per motivi di alta finanza, senza tener conto di 75 famiglie e senza considerare l'indotto di 300 persone. Un vero e proprio colpo alla Piana del Sele e il presidio permanente dei lavoratori durerà fino a quando non vi saranno risposte concrete in merito all'avvertenza. La sindaca Cecilia Francese spera nel tavolo romano con la società ad inizio anno ed ha chiesto ai sindacati una giornata di mobilitazione con i segretari nazionali a difesa dei lavoratori della Treofan, ma anche delle altre industrie della Piana del Sele in difficoltà.